Nuovo futuro per la Berloni. Il colosso industriale di cucina è finito in liquidazione alla fine del 2019 e con i capannoni di chiusa di Ginestreto venduti l'anno successivo alla Technoplast viene ora rilevato da Alex Wang, ovvero dall'imprenditore di Taiwan che era già socio di Berloni nella cordata orientale che ne intentò il rilancio nel 2014. All'asta indetta dal Tribunale di Pesaro per l'assegnazione della società in concordato da novembre scorso è risultata aggiudicataria la Treasure Win di proprietà proprio di Alex Wang che ha fermamente voluto l'acquisizione di quello che per decenni è stata una bandiera della Pesaro del mobile. Wang è l'amministratore delegato della multinazionale Thermos Company che rappresenta il più grande produttore al mondo di thermos e contenitori isolanti per alimenti e bevande con sede in Illinois negli Stati Uniti. Si tratterebbe di un'operazione di acquisizione del marchio e della società chiusa per un valore di 2 milioni e 50 mila euro dopo l'annuncio del concordato a cui ha fatto seguito l'asta. Dopo la cessione dei capannoni di chiusa di Ginestreto i precedenti stati d'agitazione sindacale degli 85 dipendenti e la nomina del liquidatore Alessandro Meloncelli attualmente la Berloni ha i suoi macchinari in un capannone nella zona industriale di Talacchio. Wang avrebbe già approfondito i controlli su magazzino e macchinari per pianificare un riavvio della produzione. Con quali tempi? Difficile dirlo con certezza perché prima si dovrà procedere alla ricapitalizzazione oltre al fatto che il giudice dovrà ora sottoporre ai creditori l'offerta per procedere all'omologazione del concordato. Trapela però ottimismo per ripartire entro l'estate.